Ciao a tutti i telespettatori di AMF Channel. L'isola dei famosi continua a stupire con i suoi colpi di scena, e l'ultimo riguarda Peppe di Napoli, il celebre pescivendolo napoletano con milioni di seguaci sui social. Dopo l'annuncio del suo ritiro dal reality, Peppe è tornato sui social per svelare la verità dietro la sua decisione. La notizia del suo addio è arrivata dopo quelli di Francesca Bergesio e Francesco Benigno, quest'ultimo coinvolto in polemiche confuse. Peppe, attraverso un comunicato ufficiale del programma, ha dichiarato che la stanchezza accumulata nelle settimane di avventura in Honduras ha provocato il suo ritiro repentino. Tuttavia, poco dopo, Peppe ha scelto di condividere sui suoi profili social una versione diversa degli eventi. Mentre il comunicato ufficiale parlava solo di stanchezza, lui ha rivelato che dietro il suo ritiro c'erano problemi fisici che non gli permettevano di continuare. La produzione del reality, probabilmente per evitare polemiche simili a quelle che hanno seguito l'addio di Francesco Benigno, ha deciso di far annunciare il ritiro direttamente da Peppe attraverso un video pubblicato sui social ufficiali del programma. Con questa scelta, la produzione ha cercato di tutelarsi da eventuali accuse e ritorsioni, dando a Peppe la possibilità di spiegare personalmente i motivi del suo ritiro, che vanno al di là della semplice stanchezza. In ogni caso, Peppe ha ringraziato il pubblico per il sostegno ricevuto e ha espresso gratitudine per l'esperienza vissuta, nonostante le difficoltà incontrate. La verità dietro il suo ritiro continua a suscitare interesse e discussioni tra i fan del programma. Cosa ne pensate voi? Ditelo nei commenti! Non dimenticate di lasciare un like, iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news. A presto su AMF Channel